Da mezzanotte allerta arancione anche sullo Spezzino e sino alle ore 17 di domani, giovedì, la protezione civile regionale sulla base delle valutazioni effettuate dal centro meteo Arpal ha emanato lo stato di allerta arancione idrogeologica e idraulica per piogge diffuse e temporali su tutte le zone della nostra regione. In particolare sullo Spezzino l'allerta proseguirà sino a domani pomeriggio. Domani infatti un fronte atlantico determinerà un forte peggioramento. Dalle prime ore fino al pomeriggio alta probabilità di temporali forti su tutto il territorio regionale a partire da Ponente e in successiva rapida propagazione nel centro e poi sul Levante. Le precipitazioni più intense sono attese nella prima parte della giornata con intensità fino a molto forte anche sul nostro settore, possibili le cumulate elevate. Dopodomani venerdì 16 un nuovo impulso instabile attraversa la regione determinando una vassa probabilità di temporali forti con possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche e dei piccoli canali. Possibili quindi danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini o piccoli smottamenti. La protezione civile quindi ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione. Tutti gli aggiornamenti ufficiali e le misure di autoprotezione saranno sul sito allertaliguria.gov.it dove durante l'allerta sarà pubblicato il monitoraggio. Ricordiamo inoltre che in caso di allerta arancione la strada provinciale della Ripa, la SP31 nel tratto tra forno e bottagna potrebbe essere chiusa nel caso in cui il pluviometro registrasse almeno 35 mm di pioggia in tre ore.